Salve carissimi amici di Tudubi e bentornati nel suo video di Camera Mia. Quest'oggi è un video a tema disneyano, come tutti i video a tema disneyano, infatti in collaborazione col Paperpedia Wikia di cui vi lascio il link in descrizione e vi lascio anche il link del Paper Sera se volete chattare e dialogare con altri fan del mondo Disney. Quest'oggi, come sempre in ogni video a tema Disney, faremo prima una breve premessa, una breve sintesi di quello che è l'ultimo topolino uscito in edicola. Ovviamente in questo momento io sono ancora in mezzo alle feste e non mi è arrivato nessun topolino, quindi mi vederete probabilmente con un altro vestiario, ma va bene così. E poi parleremo quest'oggi di Tesori International 5. Buona visione. Veniamo adesso al topolino della settimana, che è il 3190, che troverete ancora in edicola per qualche giorno e in fumetteria, in teoria, anche nel corso delle settimane future. In questo topolino devo dire che mi ha un pochettino deluso le aspettative, gli altri topolini del resto del mese, gli ultimi 3-4 topolini che ho recensito, per quanto con alcuni alti e bassi erano comunque sia topolini gradevoli. Questo non che non lo sia, ma risulta un filino sottodimensionato. Contiene infatti la terza parte di Magikraft, che adesso è di tre parti e invece sarà di quattro, sempre Matteo Venerus e Roberto Marini, testi e disegni, per una terza parte che mi ha convinto più delle prime due. È un pochettino più lenta, si lascia modo di respirare alla storia e portare avanti la trama in maniera anche abbastanza interessante e intelligente. Riportando in auge i personaggi, il personaggio che nel numero scorso detto ritornerà, sarà lui il cattivo, qui viene ampiamente rivisitato. Sarà interessante vedere come verrà utilizzato questo personaggio nel finale e che ruolo avrà. Vi sicuro aspetto per le ultime storie, per Aurora e questa, una ristampa in Legendary Collection, qui è presente la copertina del numero 5, di cui vi parlerò a breve, che ho già acquistato. È presente un'altra storia, gamba di legno e la cordata tramviaria, molto divertente, scritta da Fausto Vitaliano, per i disegni di Donald Soffritti, che ho visto sempre nelle gag, ma mai in una storia intera. O se ho fatto storie intere non le ricordo, e che è un tratto che devo dire è molto molto carino, molto originale. La storia prevede un furto compiuto da gamba di legno e sgrinfia e una corda che verrà utilizzata per legare qualunque essere viventi si trovi in attiro. Detta così non sembra niente di che, ma devo dire che è stata in realtà una storia molto divertente. Altra storia interessante è Indiana Pips e il tocco di Remida, se può piacere l'archeologia, la scoperta di tesori mitici come il palazzo di Remida. Questa qui è una storia che mi ha colpito, soprattutto nel finale, ma non una storia indimenticabile di Indiana Pips. Si conclude con una storia di Marco Bosco, un autore molto versatile e molto capace per i bellissimi disegni di Valerio Held, Zio Paperone, Rockerdac e Amici per le Penne. Una storia che vede il club dei miliardari coalizzarsi per rendere Paperone e Rockerdac amici, per poter cominciare a guadagnare e ottenere quegli affari che i due multimiliardari ruberebbero ai miliardari un pochettino di secondo piano. Una storia molto interessante che vede un rapporto inusuale, come quello di amicizia tra Rockerdac e Zio Paperone, è condotto a una serie di conseguenze che vi invito, se volete, a leggere questo albo, che devo dire, sì, non sarà un antopolino indimenticabile, ma si difende piuttosto bene. E adesso tuffiamoci a bomba sulle origini di Paperoga, con le storie di Dick Kinney e Al Hubbard. Ma veniamo ora al fulcro di questo video, ovvero Tesori International 5, l'esplosivo Paperoga di Dick Kinney e Al Hubbard. L'albo si presenta piuttosto bene, abbastanza corposo, con le sue 230 pagine, al prezzo di 6,90€. In costina possiamo vedere il numero 5, è una nota che vi segnalo se vi può dar fastidio il fatto di avere un albo di una collana, ecco, senza avere quelli precedenti. Quelli precedenti non li ho acquistati per due semplici motivi. I primi tre sono storie che già ho e non mi interessa averle in un altro formato. Il numero 4 non mi convince e quindi non l'ho acquistato. Questo quinto invece l'ho acquistato per un paio di motivi particolari, ed è il motivo per cui posso consigliarvi di acquistarlo o meno, pur con qualche piccola premessa. L'albo, come dicevo, si presenta bene, ha anche le alette a lato, ha una serie di interventi da parte di Luca Boschi e Alberto Beccattini, anche piuttosto corposi, ma piuttosto interessanti, con le biografie degli autori e l'evoluzione del personaggio di Paperoga in Italia e all'estero, più all'estero che all'Italia. Vi faccio giusto vedere una tavola interna per farvi capire lo stile delle storie, ricolorate di recente, si vede tantissimo che sono ricolorate, ma per chi è interessato alle storie e allo stile di disegno, questo può bastare avanzare. Di che cosa parla questo albo? Questo albo presenta le primissime storie di Paperoga, scritte da Dick Kinney e Al Abbard, gli ideatori, sia a livello di storie, sia grafici, del personaggio di Paperoga. Inizialmente, come avete potuto vedere, aveva la zazzera di capelli biondi, poi successivamente ampiamente rivisitati. Paperino stava vivendo un periodo di tutoriale un pochettino particolare, visto che non aveva più nipotini in casa e viveva fondamentalmente col gatto Malachia. Gli autori hanno ben pensato di proporgli una sfida interessante, qual è quella di avere un cugino totalmente strampalato e che differisce abbastanza dalla versione contemporanea che conosciamo. Perché se attualmente è un personaggio molto stralunato, molto strampalato, e basta, in queste storie ha degli obiettivi, ogni storia ha un obiettivo diverso. E per conseguirlo ci saranno tutta una serie di gag che vedranno coinvolti Paperoga, per l'appunto, Paperino e il gatto Malachia in imprese totalmente folli. Le storie sono per lo più brevi, abbiamo una ventina di storie in ordine cronologico per come sono uscite in Italia, e l'albo consta, come dicevo, 230 pagine. Quindi le storie sono abbastanza brevi, tuttavia sono piuttosto divertenti. Consiglio questo albo? Sì, mi sento di consigliarlo a chi vuole per l'appunto riscoprire il personaggio di Paperoga, cosa che non conoscevo così bene le sue origini, gli articoli interni mi hanno dato una buona panoramica e mi ha fatto veramente tanto piacere. Conoscevo solamente la sua storia d'origine e un'altra, tra quelle presenti all'interno, una delle più divertenti, tra le altre. Tuttavia, posso effettivamente dire che leggerle tutte in una volta è stato un errore. Il fatto che il concept, il plot di base fosse molto simile per tutte le storie, ha fatto sì che leggere 20 storie tutte uguali nel corso di una giornata, mi ha reso le ultime forse un filino troppo pesanti. Tuttavia, ci sta, ecco. Ecco, se io non vi spavento il fatto di avere storie molto simili l'una dalle altre e se vi interessa recuperare le prime storie del personaggio e conoscerne le sue origini, questo albo è molto molto ben fatto. Aspetto di vedere se faranno, come è stato detto su Anteprima, tutte le storie in ordine cronologico sul personaggio di Paperoga, vedremo se manterranno questa promessa e quindi faranno più avanti altri albi sul personaggio. Penso in questo momento di acquistarli, ma non so, ecco, se fondamentalmente non c'è nulla da dire oltre a questo, non penso che farò una video-opinione in merito, a meno che non ci siano delle modifiche, dei cambiamenti piuttosto rilevanti. Detto questo, noi ci vediamo ad una nuova video-opinione del canale. Ciao!